e ciao a tutti ragazzi sono andrea 99 benvenuti su minecraft sulla sky factory come sentite il tizio ci ha detto che è tempo di costruire quindi noi costruiamo qualcosa forse off camera ho fatto questo layer sotto sotto il layer sotto il livello parliamo in italiano il livello in cui sono spawnato perché mi serviva per pulsare i cavi eccetera eccetera e sto facendo tipo 40 fps bene e quindi vediamo se va tutto bene attenzione al utilizzo mi dice ok non me lo dice più bene l'importante che ci creiamo off camera ho fatto tutto stampa radame di macchinari ho fatto un casino di roba cioè ho sprecato un casino di materiali ma è utile questa parte perché noi faremo tipo troppe 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 dico troppe risorse con sto impianto se magari se magari se magari mi viene in mente di prendere un itenduct dove lo prendo un itenduct porco giuda mi fa male la gola questa puntata sarà breve perché a breve devo andare anche a lavorare quindi sono fattuto senza sgarro di qualche minuto ok questa è la puntata 6 della skyfactory ok 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 prendiamo facciamo così tac teoricamente problemi di accumulo non abbiamo forse ok non ce l'abbiamo comunque questo qua mi metto off camera e faccio tutto immaginato come vedete ho fatto un botto di roba mamma mia quanta roba e magari abbiamo liberato anche un po' di spazio sopra nell'isola in cui siamo spawnati inizialmente quindi qua ho messo se l'ho fatto vedere in video qua ho messo la farm di alberi perché oggi andremo a fare qualcosa di carino e mi sono messo a farmare off camera e e e e perché mi impallo e mi sono messo ad ammazzare i mob che sono qua dentro sono morto tipo 100 volte ma ok e come avete mandato il minigio il minigio che tipo sta un botto ad accumularsi mi sono messo tipo tre ore ve lo può dire pure master che ho qua che parlavo con lui in tv speak da tre ore che da quattro ore io sono che gioco sto coso ecco anche tanto anche troppo ecco ora prendiamo i semi i semi i semi normali e facciamo il minigio seed che ci permette di iniziare la magical crop che con la magical crops potremo farmare di tutto e di più cioè è utile troppo la magical crop perché guardate che cosa facciamo c'è i semi di ogni minerale ci sono se noi cerchiamo seed qua ci sono tutti i semi di redstone di tutto dell'aria anche che cazzo sarebbe a fare gli enchantment ma non ci credo mai respirazione figo bene quindi noi adesso craftiamo craftiamo un cazzo non so chi è che mi squilla un telefono arrivo ragazzi un attimo sto qui da noi ma sempre il telefono sto adesso non mi sento tanto stupido tanto non mi sento ok porca puttana mio fratello che suona suona al citofono quando sempre rompe i coglioni deve mi spona al microfono giusto al citofono detto master al citofono no 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 noし no 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 ok facciamo così ma eeeh che cosa ah ok ora crafteremo di ho buttato uno sputo di saliva che mi è arrivato allo schermo ok e comunque noi crafteremo gli harvester e planter, mamma mia i tagli che ci sono in questa puntata, non ci sono in uno sull'altro quindi cerchiamo, perché ho scritto così cacciami il caps harvester har è anche un po' vester, perfetto e servono tante cose servono tante cose perché tutte queste robe devo portare una crafting table qua sotto, mi so sì me la porto quindi, allora, ci servono infor infor, meno male ce l'abbiamo serve il gold serve questo, serve questo serve questo, serve questo serve tutto, serve la madonna anche master porta una madonna ok, perfetto che altro serve? la redstone mi giochi coglioni, mi serve la redstone mi serve la redstone prendiamo questo poco di redstone che abbiamo e anche il tin che abbiamo anche poco però con questa farm se mi metto off camera c'è un botto di roba vedere a me perché ho preso la stone vedere a me fare avanti e dietro non è la cosa minore del gioco però accontentatevi quindi facciamo qua due gear porca puttana mi impallo da solo poi qua perché ho fatto due dovevo fare perfetto poi qua uno e un'altra un'altra danno gli stick ma dai ma siamo seri aggiungiamo una repice e facciamo così applica perfetto che cazzo sto facendo remember shish qua ho i seed che ho lasciato perché sono tanto coglione facciamo un paio di stick e poi facciamo un'altra accia posso fare tre asce ma ho già fatto due quindi non mi chiede le altre asce perché se no mi impallo mi incazzo e dov'è qua ok poi 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 gold gear qua se vado ma che sei troia no resta qua perché se no mi annoio e ti annoio e va bene e poi c'hai la figa nel culo tu quindi si vado sono rosaria ti chiamano rosaria munzi e poi mi serve il planter plan terra fanculo perché con audacity se registro mi dà tipo attenzione al tuo utilizzo non lo so il motivo dato che io ho un microfono che mi riduce automaticamente il suono cioè non mi riduce automaticamente il suono il rumore però il rumore lo registra lo stesso non so perché sono le cuffie da 60 euro le rig flex della plantronics non so sinceramente perché mi dà sti problemi ma va bene quindi per farvi sentire l'audio bene devo mettere l'audio su porca puttana è partito sto coso dovevo mettere l'audio su audacity cioè registrarlo con audacity e poi fare le cose posose nel oso oso peloso capisco capito non stavo dicendo a te ma i miei fans i miei funzer i miei fondis i tuoi vendiatori i tuoi fan esatto facciamo due pistoni due pistoloni due pistoni e pistone uè pistone e mi son rotto il cazzo di andare avanti e indietro non pensate a male con questa france pensate a male no 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 non fatelo fatelo perché lo dico io just do it e ok ok ragazzi adesso mi serve la terra che non ho porca puttana ma master ma sai che cos'è la vacca loggia la che? la vacca loggia poi te lo spiego e praticamente ora facciamo questa terra tanta terra mi serve tanta terra troppa terra abbiamo consumato uno stack di roba ok mi serviva anche un un niente perché adesso io mi attacco alla corrente di qua no non mi attacca al cazzo forse tu ma io i cavi dell'elettricità dove gli ho meshi qui no dove l'ho messo nella cesta di sopra oh dio oh me odeo mangiamo 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 così siamo più lenti di prima mangiate e dopo ingrassi come un porco io ecco bravo non c'è solo le bestemmie tanta voglia che dici che cosa dovevo cercare i cavi dell'elettricità eccoli qua ok mi sono fatto male ma non c'è problema perché io sono irresistibile intangibile e in qualcosa cesso ambulante giusto cesso ambulante no come la l'amica tua monster il cesso a pedali che cazzo è lì che sei droga che cesso droga puttana ok abbiamo messo il planter e ora mettiamo il coso ora mettiamo il gesù esatto in croce andrà puttana no ragazzi ora porterò anche una serie che mi ha la serie tv del giorno anzi serie tv consigli per serie tv forse mi metterò in facecam ma non ho la webcam quindi devo accendere la reflex mi rompe il cazzo sperate di una ragazza in fronte ma se stai zitto che ieri tipo matteo il tuo cognome ha messo una foto su facebook l'ho visto i have see it i'm stalkering you 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 miss like ho visto eee eee pursa eee che bello puzzi you miss e ora con delle brave persone mettiamo questo le brave persone 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 personose slash persona oh ma sei cogliona eee quindi ora ragazzi sono veramente euforico no scherzo ci mettiamo con tanta pazienza cosa che io devo andare a comprare dal marocchino di fiducia perchè sono troppo impaziente ed è una cosa bruttissima perchè non ho minicio no non ho minicio ragazzi devo mettere il sun the muffler si eeeh poi che cazzo dovevo craftare che cazzo dovevo craftare che cazzo dovevo craftare un secchiello che c'ho qua senza craftarlo perfetto ma l'avevo visto c'è non l'avevo visto ma ora l'ho visto perchè io l'ho vista ooooh coglione eeeh coglione con la k cogliona 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 con la chiappa con la chiappa giusto e io faccio così perchè sono un pro parkourer e mi sono fatto anche maler eeeh i to no puttana la miseria padre inculeta miseria andrea ragazzi perchè se voi non lo sapete io sono religiosissimo quindi master non bestemmiare comunque sono ateo ragazzi sono talmente religioso che non ci credo in dio che bello no eh che bello non credere in dio in dio in dio in dio in dio anche lei te le caspe di angela esatto non sono cassate ma io non ci credo lo stesso quindi eeeh c'ho il dito in fiamme perchè mi fa male sto camminando col mignolo io quindi non chiedetemi come mi sono messo perchè è una cosa impossibile perchè mi sono fatto male al dito e quindi ragazzi l'andre 99 senza skin vi saluta e ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto grazie a tutti Grazie a tutti